Benvenuti o bentornati su Fanta Polen e benvenuti nel video pagellone 2023-2024 delle 20 squadre di Serie A. Prima di cominciare, qualche premessa è per spiegare insomma quali sono i criteri di valutazione che ho utilizzato per dare queste pagelle, perché comunque ho spulciato sulle pagelle di altri insomma youtuber o insomma giornalisti sportivi. I miei voti soprattutto su alcune squadre sono molto differenti, quindi vi vado a elencare sinteticamente i criteri principali che ho utilizzato, poi parlerò un paio di minuti a squadra dove sinteticamente vi dico qualcosa, poi farò nel mese di giugno i video specifici per ogni squadra dove porterò anche il pagellone della rosa proprio con i voti a tutti i calciatori. Bene, allora per prima cosa io non tengo di conto nella valutazione solamente il campionato ma tutte le competizioni a cui hanno partecipato le squadre, quindi le squadre che hanno giocato in Champions, in Europa League, la Coppa Italia eccetera eccetera, ne tengo di conto nel pagellone, quindi non considero solamente il campionato. Il secondo criterio che è probabilmente il più importante però è quello del rapporto tra la stagione che è stata fatta e le aspettative, perché ci sono squadre che hanno deluso fortemente, squadre che hanno sorpreso fortemente e quindi chiaramente quando una squadra supera il suo potenziale ha una valutazione nella stagione più alta rispetto a una che magari ha la stessa classifica ma aveva un potenziale nettamente superiore, aveva delle aspettative più alte perché altrimenti è inutile fare il pagellone, si dà voti alti a quelle di alta classifica, voti bassi a quelle di bassa classifica e è finita lì. No, non funziona così, chiaramente bisogna parametrare il tutto con le potenzialità. Così come ho fatto nel pagellone a inizio anno del calcio mercato dove ho parametrato il tutto sulla base degli investimenti, dei costi, degli obiettivi, come gli acquisti, insomma gli innesti di mercato fossero funzionali all'obiettivi dichiarati dalle società eccetera eccetera. Quindi cerco comunque di trovare un equilibrio nella cosa, non sto a guardare soltanto la classifica altrimenti sarebbe superfluo questo video. Poi se riesco perché le mie capacità di editing sono ovviamente sotto zero, cercherò di mettere una grafichetta da questa parte dove di ogni squadra c'è il voto e poi c'è il top, la sorpresa e la delusione. Un calciatore per ogni, cioè tre calciatori per ogni squadra, uno per ogni categoria. Il top è il giocatore che secondo me si è distinto maggiormente nella stagione della squadra. Quindi quello che ha avuto il rendimento complessivamente e mediamente più alto. La delusione è quello che in rapporto alle aspettative, quindi non è il giocatore peggiore, cioè per farvi un esempio, tre soldi del Sassuolo ha fatto una brutta stagione, sì, ma nessuno si aspettava che facesse una bella stagione, quindi non è una delusione, ok? Quindi la delusione è quello che ha avuto un rendimento al di sotto, molto al di sotto delle aspettative, quello che ha il gap tra le aspettative e il rendimento effettivo verso il basso più ampio. La sorpresa ovviamente è il contrario, quindi quel giocatore che ha avuto un rendimento clamorosamente superiore rispetto alle aspettative di inizio stagione. Quindi, concluse le premesse, cominciamo con la prima squadra. La prima squadra è l'Atalanta, cominciamo subito con il voto, l'Atalanta a cui non posso che dare un voto altissimo, è 9,5 perché ha vinto l'Europa Liga, ha vinto un trofeo prestigioso, un trofeo europeo prestigioso, il primo della sua storia, la sua prima finale, battendo gli invincibili, perché Bayer Leverkusen ha perso solamente quella partita in tutta la stagione e l'ha persa rovinosamente contro l'Atalanta, quindi un grandissimo trionfo a seguito di un percorso clamoroso dove hai vinto Anfield 3-0, hai fracassato il Marsiglia, anche agli ottavi lo Sporting Lisbonne era tutto tranne che una passeggiata, quindi nel senso l'Atalanta non ha solo fatto una grande finale, ha fatto proprio un grandissimo percorso. È arrivata anche in finale di Coppa Italia, non do il 10 per quello perché in Coppa Italia nella finale ha perso l'occasione, diciamo, di fare doppietta, ma ragazzi si sta parlando di dettaglio, è 9,5, il 10 l'avrei dato se avesse vinto la finale di Coppa Italia. In campionato, a prescindere dal fatto che ovviamente la qualificazione in Champions se l'è presa con la vittoria dell'Europa Liga, però se l'è rassicurata anche in campionato, arrivando nelle prime 5 e ci tengo a precisare che il fatto che la quinta andasse in Champions è tanto merito dell'Atalanta, perché se l'Italia nel ranking si è riuscita a conquistare un posto in più nelle coppe lo deve principalmente all'Atalanta che è arrivata in fondo all'Europa Liga, quindi comunque quel quinto posto se l'è costruito. Quindi l'Atalanta ha fatto un campionato eccezionale con delle fasi magari della stagione non particolarmente esaltanti, ma l'esplosione di questa squadra è sotto gli occhi di tutti. Ovviamente il top è Lukman per la tripletta in finale, perché per continuità di rendimento nella stagione Coop Miners probabilmente ha fatto meglio, però Lukman ha fatto vincere un trofeo con una tripletta che rimarrà nella storia non dell'Atalanta ma del calcio, perché triplette nelle finali europee sono rare, poi belle così, determinanti così, contro pronostico, perché comunque tutti davano per favorito il Bayern Leverkusen, quindi veramente Lukman ovviamente non può che essere il top player di questa stagione. La sorpresa ovviamente è De Chetelare che ha avuto un cambio di rendimento mastodontico rispetto alla passata stagione al Milan. La delusione per me è Ulm, un giocatore da cui mi aspettavo molto di più, che secondo me nello scacchiere di Gasperini avrebbe dovuto funzionare bene, e invece si è perso a un inizio campionato dove gli ha dato delle chance ma l'ha sprecata e poi alla fine il solito Zappacosta, il solito Ateburg, e quindi Ulm è stata una delusione. La seconda squadra in ordine alfabetico è quella che prende il voto più alto, è il Bologna che prende 10, perché se è vero che io mi aspettavo un grande Bologna quest'anno, quindi io non è che mi aspettavo un Bologna a metà classifica, io mi aspettavo un Bologna da zona Europa League, un Bologna che lottasse per il sesto posto e il settimo posto, quindi non è che sia andato tanto distante dalle mie aspettative, ma come ci è arrivato, cioè Bologna è andato in Champions, tanto per cominciare non in Europa League o in Conference, ma ci è arrivato facendo un calcio spettacolare, vincendo tantissimi scontri diretti, con prestazioni di altissimo livello, un Bologna che è maturato in tutte le zone del campo, che ha ruotato anche tanti giocatori, tanti elementi della rosa, dando spazio a tanti, ha valorizzato praticamente tutti, e quindi un Bologna che ora dovrà trovare la cosa più difficile, cioè confermarsi, confermarsi con l'impegno infrasettimanale, dovendo tra l'altro cambiare allenatore, quindi non sarà semplice, adesso arriva la parte difficile, però anche qualora fosse una meteora a questi livelli, ragazzi siamo comunque, si sta comunque parlando del Bologna, un Bologna in Champions è comunque storia, anche se non dovesse confermarsi a questi livelli, però c'è un progetto serio, c'è un direttore sportivo che è il migliore in Italia, c'è una società sana, c'è un ambiente meraviglioso, c'è un gruppo squadra unito, anche se dovesse perdere qualche pezzo, quindi comunque i presupposti per fare bene ci sono, è 10 perché un underdog che arriva in Champions e poi le ultime due partite la un po' buttate via perché si è scaricato psicologicamente e quindi magari arriverà a quinto anziché terzo, però perché tanto tra quinto e terzo balla tipo 3 milioni di bonus e sempre Champions è qualcosa di eccezionale, quindi 10 assolutamente al Bologna. E per me il top è Froiler che è stato il giocatore che ha permesso al Bologna di fare questa stagione, con delle prestazioni sempre di alto livello, la sorpresa per quanto mi riguarda è Calafiori, non tanto per il rendimento alto perché ho sempre stimato Calafiori, ma per il ruolo, Calafiori non pensavo potesse fare il difensore centrale ed esplosero in un ruolo che non è propriamente il suo, quindi è stata una grandissima sorpresa. La delusione è Carson ovviamente, che è un giocatore che per me è molto forte, il giocatore più pagato credo di questa campagna acquisti del Bologna estiva, che non ha legato con Motta, non si è ambientato, ha avuto anche degli infortuni, però è stato assolutamente un flop. Prossima squadra in ordine alfabetico è il Cagliari, questo è uno dei primi voti che probabilmente non sarà in linea con quello di tantissimi altri esperti del settore, non che siano esperti del settore, ma insomma gli esperti del settore hanno valutato la salvezza del Cagliari come una salvezza miracolosa o comunque una salvezza di valore. Io siccome ho una percezione della rosa del Cagliari non negativa come tanti altri, la reputo una salvezza che era assolutamente nelle corde del Cagliari e che quindi ha sofferto più del previsto secondo me. Ha sofferto più del previsto, ha fatto veramente tante partite brutte, soprattutto fuori casa. Un Cagliari che è arrivato alle ultime due o tre partite con le unghie e con i denti si è salvato sì, però sono veramente tanti i punti di domanda. Ranieri si è ritirato dal calcio, quindi ci sarà un nuovo allenatore anche in Sardegna, però ha lasciato un gran casino perché è una rosa molto profonda, tanti calciatori che non sono stati utilizzati con costanza, quindi il vero valore di tanti calciatori non si è capito. Nessuno ha giocato, a parte i punti fissi, il Dossena, l'Augello, il Macumbu, no, ma quegli altri quattro partite di fila non l'hanno mai fatte, cioè ma nessuno, che sia Lovumbo, che sia Ristagno, che sia Sulemana, ma nemmeno Nandez, a parte Nandez è andato via. Nessun calciatore ha giocato con continuità, quindi c'è una gran confusione sulla valutazione rosa, le prestazioni non sono state all'altezza secondo me del valore della rosa. Poi sul mio canale parlo spesso del Cagliari, sono anche venuto a Cagliari a vederla dal vivo e c'è spesso il dibattito aperto, no, nella sezione commenti dei tifosi del Cagliari, no, ma la rosa fa cagare, il Ranieri che è un grande, no, il Ranieri non capisce nulla, perché la rosa non fa così schifo, in realtà probabilmente la verità sta nel mezzo, fatto sta che per me la stagione del Cagliari non è sufficiente, perché un Cagliari che ha giocato male, che non è arrivato alla quota 40 punti e che ha sofferto veramente tanto, più di quanto io sinceramente mi aspettassi e la grande esperienza di Ranieri in tanti frangenti non si è vista, perché tante partite il Cagliari l'ha buttato veramente via, quindi per me il Cagliari non è sufficiente, non è grave, però è 5,5. Il top è Dossena, che è stato quello per rendimento più costante della stagione, ottimo difensore, non dico in prospettiva nazionale, è però un giocatore a tenere sotto controllo, Scufette è stata la sorpresa, perché Radunovic è stata la delusione, ho messo un altro come delusione, però Radunovic veniva da un grande campionato di B, ha perso il posto, Scufette che negli anni ha girato, è stato errante nei campionati più disgraziati d'Europa, si è ripreso un posto a titolare da protagonista, quindi portiere che a tempi ludinese sembrava essere un crack assoluto del calcio mondiale, poi si è perso miseramente, quindi il ritorno di Scufette è anche bello, però non me l'aspettavo, la delusione è Jankto, perché è un pupillo di Ranieri, un giocatore che ha chiesto lui, che ha fatto le meglio cose, a parte una stagione ludinese, proprio con Ranieri alla Sampdoria, che invece del Cagliari si è visto pochissimo, quando si è visto non ha neanche fatto bene, e quindi Jankto è assolutamente la delusione del Cagliari. La prossima squadra è Lempoli, ecco, Lempoli secondo me ha fatto un miracolo, non il Cagliari, cioè Lempoli per me in partenza era una squadra non attrezzata per la permanenza in Serie A, cioè era palesemente una delle ultime tre, secondo me, e forse era l'ultima, per valore proprio complessivo della Rosa, forse era la più scarsa delle 20 in Serie A, ha cambiato allenatore due volte, ha avuto tre allenatori, però comunque c'è stata l'intenzione di incidere sotto questo punto di vista, e il cambio allenatore definitivo ovviamente è stato quello, è decisivo, è stato quello di Nicola, che è un esperto di salvezze, che è riuscito a salvare Lempoli anche quest'anno, sicuramente con delle soluzioni anche abbastanza folkloristiche, la vittoria con la Roma all'ultimo minuto, la vittoria col Torino all'ultimo minuto, con l'erroraccio di Bellanova, cioè un Lempoli che si è aggrappato proprio sul filo di lana, però non poteva che salvarsi così, cioè non è che ci si può appellare al fatto, ma Lempoli si è salvato a culo tra virgolette, ma con quella Rosa lì è già tanto che si è arrivato a salvarsi, perché quella era una Rosa secondo me da 15-18 punti in Serie A, cioè è riuscita veramente a fare bene, anche con Andrea Zoli dove ha strappato dei risultati clamorosi, la vittoria con il Napoli, cioè ha strappato anche delle vittorie prestigiose, che gli hanno permesso di avere quei punti in più, che poi nella cavalcata finale sono serviti per poter agguantare la salvezza. Un Lempoli che di calcio bello ne ha fatto poco, di calcio propositivo pure, però un Lempoli che è riuscito a raggiungere un obiettivo che secondo me in partenza era fuori portata, per cui la stagione è di assoluto livello, per me è da 8. Il top è stato assolutamente Luperto, a parte che penso sia stato il giocatore di movimento più utilizzato in Serie A, non ha praticamente saltato una partita, ma è poi giocatore che è riuscito a tenere un reparto con a fianco calciatori non all'altezza, o molto, per dire anche nel, insomma da quando è arrivato Nicola ha giocato Beresinski, difensore centrale, che non è il suo ruolo, quindi anche adattati, eppure Luperto ha dato grande solidità al reparto, ha sbagliato qualche partita, ma è fisiologico, però è stato quello del rendimento più alto. E la sorpresa è Malè, è Malè che è stato mandato via a calci da Lecce, che alla Fiorentina non aveva impressionato più di tanto, ha fatto un grandissimo girone di ritorno con l'Empoli, è stato anche lui uno dei migliori per rendimento e per costanza, quindi mi ha sorpreso il rendimento di Malè, che è un buon giocatore, ma ha alzato veramente tanto il suo livello. La delusione per me è Cambiaghi, che aveva concluso la stagione precedente in crescendo, dimostrando di essere un giocatore anche determinante negli ultimi 25 metri, è rimasto a Empoli in prestito dall'Atalanta e non si è confermato assolutamente sui livelli visti l'anno scorso. Quindi Cambiaghi ha fatto tanti passi indietro rispetto alla stagione precedente ed è la delusione. Andiamo all'altra Toscana della Serie A, quindi la mia Fiorentina, che per me è da 4,5. Perché è da 4,5? Perché pesa tanto la finale persa ieri. Non do questo voto perché, essendo tifoso, sono molto ancora dispiaciuto per la finale persa ieri, ma perché è stata veramente buttata nel cestino un'occasione clamorosa, una Fiorentina che è arrivata in fondo alla competizione europea per grazia divina, perché non ha trovato praticamente nessuna squadra competitiva, basti pensare che il Maccabi Haifa giocava per la prima volta nella sua storia in un ottavo di finale, il Victoria Pilzen giocava per la prima volta nella sua storia a un quarto di finale, il Bruges giocava per la prima volta nella semifinale, l'Olympiaco si giocava per la prima volta nella sua storia in una finale, cioè hai trovato tutte le prime volte, tutte le squadre che sono arrivate lì per miracolo e nonostante questo sei riuscito a non vincere questa competizione giocando una finale imbarazzante. Quindi una Fiorentina che per questa ciofeca fatta in conference merita un'insufficienza pesante, anche perché comunque in Coppa Italia ha fatto il suo percorso, insomma è stata eliminata dall'Atalanta giochicchiando la sua partita, soffrendo ma giocando la sua partita, in campionato è arrivata ottava, quindi diciamo che ha tenuto dietro il Torino, ha tenuto dietro il Napoli, ha tenuto dietro squadre di pari o superiore valore, il Genoa, quindi il suo campionato diciamo l'ha fatto, però il campionato è da sei sostanzialmente, perché ha raggiunto il livello suo, ma la conference per me è da tre, perché ha sofferto tanto contro squadre molto inferiori, e è arrivata in finale e ha fatto un disastro, e quindi è un'occasione veramente persa, che brucia, e che tra l'altro danneggia anche l'Italia, perché ci ha rimesso a Fiorentina, che invece che in Europa League va in conference, e il Torino che non andrà in Europa, e quindi la media fa 4,5. Il top player, voglio premiare Martínez Quarta, perché, allora sostanzialmente perché, è il giocatore che, ha alzato molto il rendimento rispetto all'anno scorso, è stato determinante in zona goal, in difesa ha delle amnesie mastodontiche, però un giocatore che ha avuto un rendimento alto, costante per la Fiorentina non c'è stato, Quarta è quello che, diciamo, è stato determinante più volte, anche proprio nell'identità di gioco della squadra. La sorpresa è assolutamente Caio De, che ha sfruttato, tra virgolette, il brutto infortunio di Dodò, per prendersi la scena, giocatore giovane, fortissimo, maturissimo, ecco, molto maturo, sorprendentemente, e quindi è la sorpresa per la Fiorentina, la delusione per me è Maxime Lopez, perché è un centrocampista, che l'ultimo anno a Sassuola aveva fatto molto bene, ma prima aveva fatto vedere grandi cose, anche con la Magliela e Marsiglia, e è arrivato a Firenze, non con aspettative altissime, però, quando davanti a te hai Arthur, io mi aspetto che tu possa rubargli il posto, senza problemi, e avere un rendimento alto, rispetto ad Arthur, invece ha giocato poco, quando ha giocato non ha fatto bene, e quindi Maxime Lopez è una delusione, perché io non è che mi aspettavo, di aver pescato Scholes, però non mi aspettavo neanche quello che poi ha fatto vedere a Firenze, che è praticamente la ripetizione di quello che ha fatto a Sassuola l'anno scorso, quindi un giocatore non all'altezza, ma mi aspettavo di più. Prossima squadra è il Frosinone, che è retrocesso all'ultimo tuffo, all'ultimo minuto dell'ultima partita, a cui però mi sento di dare comunque una sufficienza, perché è un Frosinone che con una squadra completamente rimaneggiata, piena a zeppa di prestiti, di ragazzini, ha giocato un campionato ben oltre le sue potenzialità, secondo me, perché è un Frosinone che non era scarso come Lempoli, secondo me come Rosa, però anche il Frosinone era da ultime tre, e quindi ci stava che il Frosinone retrocedesse, è un risultato in linea con il valore della squadra, però è retrocesso a testa altissima, facendo un bel calcio, perdendo le partite spesso su degli episodi di immaturità, che è comprensibile, visto insomma come è stata costruita la squadra, però ci sono giocatori che sono cresciuti tanto, si sono valorizzati tanto, purtroppo per il Frosinone alcuni di questi non sono di proprietà, quindi non ci monetizzerà da queste valorizzazioni, però è un Frosinone che il suo campionato, secondo me l'ha fatto, ha fatto anche più di quello che secondo me era in suo potere, purtroppo per il Frosinone è arrivata la retrocessione, ma non è una stagione insufficiente assolutamente, quindi alla fine un punto dalla salvezza, brucia tantissimo, l'obiettivo ovviamente era rimanere in Serie A, però i mezzi per rimanere in Serie A non c'erano secondo me, quindi il Frosinone ha lottato come ha potuto, anche più di quello che era il suo effettivo valore, e quindi per me la sufficienza la merita. Il top è Sule che nel genio di andata è stato devastante, è crollato nel genio di ritorno, però è il giocatore che ha trascinato la squadra a livello anche realizzativo, e probabilmente il calo che ha avuto il Frosinone da punto di vista proprio offensivo nel genio di ritorno è dovuto anche al calo di Sule, anche al fatto che magari gli avversari hanno cominciato a capirlo. La sorpresa è Brescianini, il giocatore che io ho sponsorizzato tanto quando il Frosinone l'ha preso, è stato forse il colpo di mercato del Frosinone che ho valutato di più, perché è un giocatore in cui io credevo molto, ma non così tanto, non pensavo che potesse essere un giocatore così determinante in Serie A, ma soprattutto così duttile. Ha fatto il terzino, il terzo attacco, il trevartista, il farzo nove, il mediano, ha fatto tutto, cioè è giocatore veramente di alto livello per il nostro campionato, secondo me, e non mi aspettavo potesse essere così forte. Quindi per me la sorpresa è Brescianini. La delusione è caso che in Serie B aveva fatto bene, mi aspettavo potesse fare di più in Serie A, anche dopo l'infortunio di Arruin, insomma pensavo potesse giocare di più, ha giocato poco, male, mi ha deluso caso. Prossima squadra è il Genoa, altra neopromossa, a cui do un otto pieno, perché il Genoa è la migliore neopromossa dei maggiori cinque campionati europei. È vero che la squadra era forte, perché comunque l'organico dato in mano a Girardino è un organico di tutto rispetto, è un organico da metà classifica, che è dove è arrivato il Genoa, ma non era scontato che arrivasse a metà classifica, perché c'erano tanti esordienti, tanti calciatori che arrivavano a campionati europei, perché Girardino e egli stessi erano esordienti in Serie A, è riuscito a fare un grandissimo lavoro su alcuni giocatori che hanno cambiato ruolo, che hanno cambiato mentalità, che hanno cambiato approccio, alcuni sono cresciuti in maniera clamorosa e hanno avuto un rendimento che è ben oltre quella che è stata la loro carriera. Quindi Girardino ha messo delle basi molto importanti per la prossima stagione. Come dissi l'anno scorso, nel pagione dell'anno scorso, attenzione perché Bologna ha messo delle basi importanti, se fa un mercato fatto bene, con Sartori lo fa di sicuro e Bologna lotta per l'Europa, anche il Genoa secondo me ha messo delle basi molto importanti. Poi bisognerà vedere come lavorerà in estate, perché da che ho capito ha ancora i vincoli dei casini che ha fatto Preziosi, quindi c'è ancora un calciomercato con i fari puntati addosso e non potrà muoversi molto. Però le basi che ha messo Girardino sono talmente importanti, talmente di livello, che il Genoa ha avuto un rendimento alto nonostante abbia venduto forse quello che era il miglior difensore per rendimento del girone d'andata, cioè Dragusin. Non è una cosa da tutti, quindi per me il Genoa ha fatto una grande stagione ed è da 8. Il top ovviamente, mi dispiace non metterci Frendrup perché è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto di tutta la Serie A, però un Gudmundsson che è terzo nella classifica cannonieri da trequartista con tutte le giocate che ha fatto, con tutte le partite che ti ha portato a casa, non si può non mettere come top player ovviamente di quest'annata del Genoa. La sorpresa è assolutamente Vasquez. Vasquez è stato uno dei migliori difensori per rendimento dell'intera Serie A per tutto il campionato. Delle partite mostruose, tra l'altro ha preso tipo 6 pali, quindi avrebbe potuto condire la sua stagione anche con delle finalizzazioni. Giocatore che è cresciuto tecnicamente, che è cresciuto nelle letture, nei contrasti, non è il Vasquez visto l'anno scorso a Cremona, ma neanche quello visto a Genova due anni fa. Veramente un giocatore, veramente ora di alto livello, non è a livelli di Dragusi, ma è un giocatore che se Dragusi si stava venduto a 35 milioni, Vasquez ha fatto una stagione da 25, quindi non se ne è accorto nessuno, ma ha fatto una stagione incredibile ed è la sorpresa. La delusione è da Retegui, perché ok che ha avuto tanti problemi fisici, però mi aspettavo un impatto migliore, perché comunque aveva già annusato l'Italia, no, con la nazionale, chiaramente un'altra cosa, però mi aspettavo un impatto superiore, mi aspettavo un rendimento migliore, un giocatore molto combattivo, ma che l'ho visto spesso spaisato, dialogare male con i compagni, da Retegui mi aspettavo di più, vi dico la verità, quindi per me è la delusione del Genoa. E' l'asse Verona, allora, altro... io do sette e mezzo al Verona, perché comunque anche il Verona, secondo me, doveva sudarsela alla salvezza, perché non aveva una rosa particolarmente attrezzata per la salvezza, però voglio sfatare un mito, perché se no, qui ormai si è costruita una favola, una leggenda metropolitana, al Verona, baroni hanno fatto un miracolo, perché la squadra è stata smantellata a gennaio e nonostante questo, ma la squadra smantellata a gennaio era ultima in classifica. Nessuno se n'è accorto? Il Verona, con quella squadra, con i Doig, gli Ien, gli Ingonge, gli Ongla, i Faraoni, con quella gente lì, i Diurice, il Verona era ultimo, faceva delle partite, una più brutta dell'altra, catenacciava e basta, e non riusciva a fare nulla, e quindi è stata smantellata una squadra perdente, è una squadra ultima in classifica, non è che è stata smantellata una squadra che stava volando, cioè, quindi, a questo bisogna comunque rendersene conto e non bisogna considerare solo il girone di ritorno, perché se il Verona ha dovuto fare il miracolo nel girone di ritorno, facendo 24 punti, mi pare, nel girone di ritorno, e significa che ha fatto particolarmente schifo nel girone d'andata, l'allenatore era al solito, alcuni giocatori erano gli stessi, tra l'altro la rivoluzione che è stata fatta a gennaio, con tanti innesti di mercato, l'unico che poi si è piantato nella squadra titolare è stato Noslin, perché quegli altri c'erano già, cioè, al posto di Doig ha iniziato a giocare Cabal, che c'era già, era una riserva, ma c'era già, al posto di Ien ha cominciato a giocare o Magnani o Coppola, che c'erano già entrambi, al posto di Terracciano ha iniziato a giocare Chachua, che c'era già, al posto di Ongla giocava Serdar, che c'era da inizio anno, al posto di Ingonge ha giocato Suslov, che c'era da inizio anno, è stato riscattato a gennaio, ma c'era da inizio anno, l'unico giocatore arrivato a gennaio che ha iniziato a giocare è Noslin, che ha preso il posto, diciamo, di Diuric, perché ha giocato spesso falso 9, ecco, cioè, è quello, bisogna comunque rendersene conto, quindi sfatiamo un po' il mito, fermo restando che la salvezza del Verona è di qualità, perché è una squadra che si è salvata con tanti giovani, con un bel calcio nel ginone di ritorno, perché è un Verona che ha messo in mostra tanta tecnica, un Verona che ha messo in mostra coraggio, personalità, carattere, e quindi la salvezza è di qualità, non è una salvezza risicata, brutta, tra virgolette, come quelle del Cagliari o dell'Udinese, è una salvezza migliore, però non dimentichiamoci del ginone d'andata, fatto con la squadra che, oh, è stata smantellata la squadra che era ultima, ricordiamoci questo dettaglio che non è da poco, il top player per me è sempre Montipò, ha fatto una grande stagione Foloruncio, a livello realizzativo, ma tantissimi alti e bassi nella stagione di Foloruncio, spesso anche giocava male ma faceva gol, Noslin determinante, ma da gennaio in poi, chiaramente, Montipò c'è stato tutto l'anno, ed è comunque ha tolto veramente tante castagne dal fuoco per tutta la stagione, quindi per me il top dell'LS Verona è Montipò, la sorpresa è Noslin, giocatore che io conoscevo, perché l'era e divise è il campionato straniero che guardo di più, però non mi aspettavo potesse avere un impatto così enorme, dal punto di vista dei gol degli assist, è sempre stato un giocatore molto intelligente tatticamente, con buone doti tecniche, è un giocatore utile, sicuramente io mi aspettavo facesse bene, ma non che facesse questi numeri, che registrasse questi numeri, quindi ha sorpreso molto anche me, nonostante io comunque avessi una buona considerazione di lui. La delusione dell'Ellas, avete pazienza perché l'ho salvata nelle immagini, anziché nella tabella, un attimo solo che me la devo andare a guardare, purtroppo ho fatto, ah ma ce l'ho salvata sull'altro computer, chi avrò messo come delusione? Ian, ho messo Ian come delusione, perché è vero che è andato via a metà stagione, ma stava facendo veramente male, ha sofferto molto la difesa a 4, di Baroni, perché è un giocatore adatto alla difesa a 3, lo si è visto anche all'Atalanta, dove ha fatto benissimo, ma aveva fatto benissimo anche l'anno scorso, quando è arrivato insomma nel 3-4-2-1 di Bocchetti, aveva fatto molto bene, purtroppo per lui il Verona ha cambiato modulo, nella difesa a 4 non ci ha capito niente, veramente ha fatto brutte partite, è stata una delusione perché comunque era il giocatore probabilmente di valore assoluto più alto della rosa del Verona. Andiamo all'Inter, allora ecco un altro voto che ovviamente farà scalpore, 7 all'Inter, perché? Perché è vero che ha vinto un campionato da dominatrice assoluta, anche se bisogna ammetterlo, perché comunque come ho specificato su un altro video, io non sono un professionista, sono un amatore, non ho sponsorizzazioni, non ho nessuno che mi paga per fare i video, e quindi io dico cosa mi pare, l'Inter è stata molto aiutata dalle decisioni arbitrali nel ginone d'andata, che gli hanno permesso di creare un gap molto ampio di classifica con le inseguitrici e che gli hanno permesso nel ginone di ritorno di giocare senza pressione, quella pressione che due anni fa gli ha fatto perdere lo scudetto contro il Milan, nonostante già due anni fa fosse nettamente la favorita per lo scudetto, però avere una squadra attaccata al culo che ti sta lì e che ogni passo falso ti può superare portò l'Inter a fare dei passi falsi e a farsi superare. Quest'anno questo rischio non c'è stato, perché ci sono stati anche dei favori arbitrali abbastanza evidenti nella prima parte della stagione. Detto questo però, l'Inter ha meritato lo scudetto, la squadra con il migliore attacco, la migliore difesa e il calcio anche migliore, quella più tecnica, quella con più idee, cioè squadra migliore in assoluto del nostro campionato, sia sulla carta che poi sul campo, però non c'è solo il campionato, che hai vinto e va bene, è per questo che comunque do un'ampia sufficienza, però non c'è solamente il campionato, che hai vinto ma eri la strafavorita per vincerlo, hai fatto una Champions League imbarazzante, con un girone da Europa League in cui sei arrivato secondo, alla prima squadra di pallone da Champions hai trovato l'Atletico, sei stata eliminata, facendo una buona partita sì, ma sei stata eliminata, e quindi hai dimostrato come la finale dell'anno scorso sia stata una casualità dovuta ai sorteggi, come la Fiorentina è arrivata in finale di Conference due anni di fila per i sorteggi, l'Inter è arrivata in finale di Champions per i sorteggi, perché ha affrontato due portoghesi e il Milan, e quest'anno che doveva riconfermarsi ha dimostrato di non essere all'altezza di quei palcoscenici, e quindi è stata una bruttissima figura quella in Champions, nel girone e agli ottavi di finale, poi io non sto a valutare, perché quando si parla di Inter non si può valutare la Coppa Italia, perché sei uscito in casa contro il Bologna, però non lo considero nella pagella, così come non considero la Supercoppa, sono competizioni superflue che contano se le vincono, se l'avessi vinta la Lazio la Supercoppa l'avrei potuta valutare, ma per l'Inter non penso sia quello il punto fondamentale, per cui per me l'Inter ha fatto una stagione da 7, il top assoluto perché ha fatto un campionato da 8,5-9 abbondante, ha vinto la Supercoppa, però la Champions è stata da 3, ragazzi. Il top è Cialanoglu, non tanto perché ha fatto 10 rigori, ma perché lui esagera a dire io non ho niente in meno di cross, perché chiaramente bisogna sempre cava fuori dal vaso se non si è contenti, non esageriamo, però sicuramente è stato il centrocampista migliore della Serie A, e quindi è un giocatore che è migliorato tantissimo nella fase di non possesso, ha una qualità, una gestione dei tempi di gioco in fase di possesso incredibile, e quindi per me è il top dell'Inter. La delusione e scusate la sorpresa è Turam, che l'Inter dovrebbe sfruttare per fare una plus valenza secondo me quest'estate, perché Turam non aveva mai registrato questi numeri qua, mi aspettavo facesse molta fatica, perché generalmente i giocatori arrivano dalla Bundesliga fanno molta fatica, perché è un giocatore che non ha mai avuto un grande feeling con il gol, e quindi mi aspettavo un Turam molto meno impattante, invece ha avuto un impatto importante, mi sembra che tra golle e assist, tra campionato e coppa è arrivato sopra le 25, insomma veramente tanta roba, un esordio in Serie A di assoluto livello, ribadisco per me dovrebbe essere sfruttato per farci una plus valenza, l'hai presa a 0, lo vendi a 50, 60, 70, insomma quant'è che ti pagano, e sistemi il problema dei bilanci, e Turam è sostituibile secondo me, perché difficilmente secondo me si confermerà su questi livelli, però è stata una grande sorpresa. La delusione è Dumfries, giocatore che secondo me è forte, giocatore che fin dai tempi in Olanda insomma sembrava poter essere uno dei migliori terzini d'Europa, e all'Inter l'anno scorso meglio, quest'anno è calato tanto, quest'anno tante prestazioni sotto tono, tante prestazioni insufficienti, in una stagione in cui l'Inter comunque ha dominato in Serie A, Dumfries è stata un po' la nota dolente, e quindi è la delusione. La prossima è la Juventus, ahhh Polen ma come, la Juventus più della Juve, sì perché la Juventus è una squadra di merda, ecco che vi dico i criteri che io utilizzo, poi potete non essere d'accordo, non è che sto dicendo che io sono il messia, e tutto quello che dico è giusto, non sto dicendo questo, però bisogna valutare anche il materiale a disposizione, cioè quando tu giochi con Miretti, con Iling Junior, Kostic, Cambiaso, Gatti, Alexandro, Locatelli, Ken, cioè ragazzi ma quando tu giochi in Serie A con questa gente, a come puoi pensare di essere competitivo per lo Scudetto? Ma è già tanto che arrivi nelle prime quattro, e quindi la Juve con un calcio inguardabile, perché il calcio da Juve spesso è stato inguardabile, è riuscita comunque nelle due competizioni che giocava quest'anno, una a vincerla, la Coppa Italia, e quell'altra ad arrivare nelle prime quattro, addirittura terza, forse, se l'Atalanta non la supera insomma all'ultima giornata con recupero la Fiorentina, quindi cioè si sta parlando comunque di un risultato ben al di sopra secondo me del valore della Juventus, perché la Juventus come nastre di partenza, soprattutto considerando anche la squalifica di Fagioli, e che col fatto che non ha potuto fare mercato, è una squadra secondo me da sesto o settimo posto, quindi riuscire ad arrivare nelle prime quattro, e valorizzare calciatori dal valore discutibile, che adesso ti possono fruttare sul mercato, perché hai calciatori che adesso puoi sfruttare per monetizzare, sono calciatori che partivano, e anche McKennie si è valorizzato molto, era un esubero, cioè Allegri con gli scarti, con gli esuberi, con gli invenduti, è riuscito, con un calcio spartano, brutto quanto volete, ma è riuscito a ottenere un risultato ben al di sopra del valore della Juventus, e quindi per me la Juventus è da 7,5. Il miglior giocatore per me è stato Bremer, che ha contribuito molto alla solidità difensiva, anche Danilo, però Bremer di più, secondo me ha fatto veramente delle partite da Mastodonte, e la sorpresa per me è cambiato, perché si sta parlando di un giocatore che faceva riserva al Bologna l'anno scorso, quest'anno si è preso la titolarità sulla fascia, ha avuto un rendimento alto nella prima parte della stagione, è calato un po' nella seconda anche per qualche acciacco fisico, però un giocatore che è cresciuto di valore, di rendimento, stessa cosa potrei dire di McKennie, però McKennie secondo me non è mai stato un brutto giocatore, mentre invece Cambiaso l'anno scorso aveva dimostrato di far fatica, quindi è stata una grande sorpresa. La delusione della Juve per quanto riguarda era Biot, che l'anno scorso fu uno dei migliori, e quest'anno invece è rimasto, cioè la Juventus si è dissanguata per tenerlo un altro anno a gratis, nel senso che andava via poi a zero, perché probabilmente si svincolerà quest'estate, ha pagato tipo 18 milioni di traingaggio, commissioni, cazzi vari, firme, eccetera, per tenerlo un anno ha fatto una stagione veramente sotto tono, quindi è rabbio e la delusione. Lazio, allora, la Lazio ha fatto una grande mossa, che è stata quella di mandarvi a Sarri e prendere Tudor, quella è stata una mossa intelligentissima, allora, sbagliato è stato, e comunque se tornate un anno indietro sul mio canale, e nove mesi indietro e guardate il pagellone di fine mercato, io la Lazio l'avevo massacrata, perché dissi, sì, i calciatori non sono male, ma non c'entrano un cazzo col gioco di Sarri, e infatti nessuno dei nuovi acquisti si è integrato nel calcio di Sarri, e già anche quelli vecchi, insomma, erano molto forzati, quindi, cioè, prendere un allenatore molto rigido nella sua idea di calcio e poi non seguire i suoi dettami tattici quando vai a costruire la squadra è un controsenso, quindi la Lazio ha lavorato malissimo con Sarri, però in questa stagione comunque ha avuto la prontezza di esonerarlo, di mandarlo via, a parte ha dato delle dimissioni Sarri, però ci è stato portato, perché insomma c'erano litigi costanti con lo Tito anche pubblicamente, e prendere Tudor con cui costruire il ciclo del prossimo anno, quando tu metti le basi per il prossimo anno stai facendo qualcosa di buono, secondo me, quindi Tudor ha avuto un grande impatto con la Lazio, la Lazio comunque ha raggiunto l'Europa League, in una stagione dove magari col quinto posto andavi in Champions, ok, però era partita male in campionato, quindi sei riuscito comunque a raggiungere l'Europa League, che secondo me è anche una competizione più alla portata della Lazio, e in Champions ha fatto la sua figura, e ha passato un girone non scontato, con quel momento eccezionale del gol di prove del contro l'Atletico Madrid, è uscito a testa alta secondo me contro il Bayern Monaco, e quindi una Lazio che ha sfiorato anche l'impresa in rimonta contro la Juventus, in Coppa Italia in semifinale, quindi la Lazio la sua stagione secondo me l'ha fatta senza esagerare, però al 6.5 se lo merita. Il top player della Lazio per quanto mi riguarda è Felipe Anderson, che soprattutto anche con Tudor si è adattato in un altro ruolo, Tudor ne ha parlato bene, anche se chiaramente la sua parentesi a Lazio si è conclusa, però giocatore che secondo me tra tutti è stato quello un pochino più costante, la sorpresa è assolutamente Kila. Kila si è preso la titolarità quasi per caso, perché c'erano tanti infortuni, poi non l'ha più mollata perché ha fatto delle prestazioni incredibili. Kila è potenzialmente uno dei migliori difensori del nostro campionato, ha fatto vedere questo, poi bisognerà vedere il prossimo anno se si confermerà, ma veramente i margini sono enormi. Grande stagione sorprendente di Kila, la delusione è Zaccagni che l'anno scorso fu uno dei migliori della Lazio, soprattutto dal punto di vista realizzativo, e che quest'anno invece non si è assolutamente confermato né per rendimento né per numeri. Brutta stagione di Zaccagni che infatti ha perso anche la nazionale, quindi per me Zaccagni è la delusione della Lazio. Rossiano Squadra e Lecce, e anche qua sicuramente ci saranno molte perplessità, perché sono volati gli 8, i 7 e mezzo ovunque, perché io do solo 6 e mezzo, nonostante non nascondo la mia simpatizzazione, come si dice, nei confronti del Lecce. Perché io ho dato 9 al calciomercato del Lecce, perché per me il miracolo l'ha fatto in estate il Lecce, non durante il campionato. Il Lecce in estate, senza soldi, con un Montengaggi ridicolo per la Serie A, ha costruito uno squadrone per la salvezza, perché il Lecce aveva tutte le carte in regola per potersi salvare, ha una squadra, una rosa assolutamente attrezzata, con una difesa forte, un portiere top, un centrocampo rognoso, e qualche giocatorino interessante davanti, che ti può fare la giocata individuale. Quindi la squadra è stata costruita bene. Quindi io partivo dal presupposto che per me il Lecce si sarebbe dovuto salvare, con disinvoltura, si è salvato, grosso modo con disinvoltura, perché ha fatto un giugno di andata eccezionale, un po' come il Frosinone. Poi è crollato nel giugno di ritorno, sia a livello atletico, ma soprattutto mentale. Poi è arrivata la Caciara col Verona, con la testata di D'Aversa a Henry, che è stata la svolta, casuale probabilmente, ma è stata la svolta del Lecce, perché è arrivato Gotti, che ha dato grande solidità difensiva alla squadra, ha dato mentalità, mentalità da salvezza, ma quella di D'Aversa era un po' troppo sbarazzina, un po' troppo arrembante, però ha fatto tanti punti anche D'Aversa, non dimentichiamoci che comunque tanti dei punti salvezza che ha fatto il Lecce l'ha fatti D'Aversa nel giugno di andata, perché sennò ci si dimentica troppo velocemente di quello che è successo. Però per me la stagione del Lecce è da 6,5, perché l'obiettivo è stato raggiunto, è stato raggiunto grosso, tutto sommato, senza soffrire, perché poi matematicamente mi sembra si è salvato a 4 o 5 giornate alla fine, quindi si sta parlando comunque di un obiettivo raggiunto bene, però ha fatto quello che io mi aspettavo grosso modo da loro, niente di tanto di più, perché io avevo una considerazione alta del Lecce a inizio anno, e quindi da qui il mio 6,5. Il top è assolutamente Gallo, Gallo ha fatto una stagione, è stato per quanto mi riguarda il miglior terzino della serie, Di Marco lo considero un esterno di centrocampo, non un terzino, quindi Gallo come terzino è stato il miglior terzino della serie, per quanto mi riguarda, per rendimento, per costanza, per capacità di essere determinante in entrambe le fasi, un giocatore eccezionale, lui sì, mentre Dossena bisognerà rivederlo, Gallo è da nazionale, assolutamente, però non voglio parlare delle convocazioni in spalletti, in questo video non c'entra nulla, uno che non convoca Udoge, difficile convochi Gallo, però vabbè, detto questo, per me Gallo è il top assoluto della stagione in Lecce, la sorpresa per me, allora io, è Pongracic, è Pongracic perché l'anno scorso ha fatto la riserva, aveva giocato bene le prime 5-6 partite, poi aveva perso il posto perché Baschirotto e Umtiti si erano presi la scena, è stato confermato, riscattato da Borussia Dortmund, ma ragazzi ha fatto un campionato appena sotto Gallo, proprio appena sotto, cioè, quindi, Pongracic è stato sorprendente perché che fosse un giocatore di esperienza, di personalità, sì, ma che fosse un giocatore così tanto determinante, anche in fase di possesso, non me l'aspettavo, quindi Pongracic è la grande sorpresa, la delusione è Strefezza, è Strefezza che sicuramente non si è preso con D'Aversa, che sicuramente ha litigato, bla bla bla, però l'anno scorso fu un giocatore determinante per la salvezza, quest'anno D'Aversa, anche se lo toglieva sempre, non gli dava mai la continuità, però tante chance gliela ha date, è Strefezza, raramente l'ha sfruttata, e questo è stata una grande delusione, quindi Strefezza è delusione. Milan, Milan per me è da 6,5, perché il mercato che aveva fatto il Milan era interessante, c'erano dei giocatori, insomma, che poi si sono rivelati, alcuni, insomma, di ottimo livello per il nostro campionato, però non era facile metterli insieme, i giocatori arrivavano da campionati molto diversi, e non era semplice creare un'amalgama con questi profili, perché praticamente il centrocampo è stato rivoluzionato con la partenza di Tonali, l'arrivo di Reinders e l'Oftus-Cic, e l'iniziale indisponibilità di Ben Nasser, che ha saltato praticamente tutta la prima metà della stagione, c'era da ridisegnare un pochino anche l'assetto offensivo, ci sono stati tanti infortuni dietro, tanti difensori, portiere, insomma, dietro veramente è stata un'ecatombe, e quindi bisognerebbe vedere anche queste preparazioni atleti e fappioli, perché c'è qualche problema probabilmente, però il Milan alla fine arriva secondo, senza rischiare mai, diciamo, di non arrivare secondo, e quindi il campionato, il suo campionato l'ha fatto, alla fine ha chiuso a 75 punti, mi pare, quindi il suo campionato l'ha fatto, ed è riuscito a integrare alcuni calciatori che sono diventati colonne portanti di questa squadra, Reinders, Loftus-Cic e Pulisic, questi, diciamo, i giocatori, mentre Okafor, Chukueze hanno fatto un po' più fatica, Terraccia non si è praticamente mai visto, però loro tre invece sono diventati giocatori determinanti, quindi giocatori che sono scostati 55 milioni messi insieme e che sono diventati tre giocatori da Milan di alto livello, quindi comunque questo lavoro è stato fatto bene. Non do di più al Milan, non perché ci fosse l'onere di dover competere con l'Inter, perché l'Inter è troppo più forte, quindi un Inter che è già di su è più forte, è un po' aiutata nel girone d'andata, fa 90 e passa punti, non è contrastabile, quindi non è che non do un voto alto perché non ha lottato per lo scudetto, ma perché mi ha deluso nelle coppe europee. In Champions, in quel gironaccio, ci sta anche di uscire, ma in Europa League ha fatto molto male, ha sofferto tantissimo contro lo Slavia-Braga, nonostante lo Slavia-Braga giovasse in 10 dopo 5 minuti e con la Roma è stato un disastro. Con la Roma il Milan veramente ha fatto schifo e non va bene, e non va assolutamente bene. Quindi per me il Milan è da 6,5 perché in campionato ha fatto il suo, ha integrato i nuovi, però anche il Milan, come l'Inter ha dimostrato che la finale l'anno scorso è stata un caso, il Milan ha dimostrato che la semifinale l'anno scorso è stata un caso. Il top per me è Reinders che si è preso le chiavi del centrocampo con una personalità, una qualità, un dinamismo di altissimo livello, giocatore completo, sempre ad alti ritmi e sempre costante nel suo rendimento. La sorpresa è Pulisic perché il giocatore, io lo ricordo il Borussia, era un giocatore benamente determinante, forte sull'esterno, anche se nasce trequartista in America lui in realtà, però non mi aspettavo che in Italia potesse avere un impatto così devastante, quindi giocatore che io ho sempre stimato ma non pensavo in Italia potesse essere così forte. La delusione è Leao, Leao che l'anno scorso fu devastante, anche Teo Hernandez in generale la fascia sinistra del Milan, però Leao che è il giocatore di maggior valore, insomma l'uomo copertina di questa squadra che ha deluso, ha giocato male, per tutto il giro è andato, non si è mai visto, sono tante le partite da ectoplasma, insomma, male Leao anche nelle partite diciamo di cartello, quindi è la delusione del Milan. prossima squadra è il Monza, Monza che si piglia un bel 7 perché io non reputo il Monza Marosa forte, quindi il fatto che il Monza si salvi con nonchalance per il secondo anno di fila arrivando praticamente a metà classifica, anche se poi il giro di ritorno nelle ultime 6-7 partite ha fatto un tracollo clamoroso, però non mi aspettavo ecco che il Monza anche quest'anno potesse confermarsi su questi livelli, poi tanto lo deve al suo portiere, perché con un portiere normale probabilmente avrebbe avuto 10 punti meno ed era inguaiata nella zona della retrocessione, però la Rosa secondo me è da zona retrocessione, quindi il fatto che si sia salvata con nonchalance con un calcio che a tratti è anche bello, perché non è una squadra particolarmente spettacolare, ma che ogni tanto si accende e fa vedere delle cose veramente molto interessanti, è una stagione molto positiva, quindi il 7 se lo prende pieno è indiscutibile per quanto mi riguarda. Il top player è assolutamente di Gregorio, quello che ha portato più punti, meglio il portiere del campionato per quanto mi riguarda, quindi è stato anche premiato il miglior portiere del campionato, poi probabilmente è stato premiato perché va alla Juve, perché se fosse rimasto al Monza o fosse andato al Torino col cazzo l'avrebbero premiato perché non era abbastanza sponsorizzato, col fatto che va alla Juve magari è stato premiato anche per quello, però il rendimento di Gregorio è indiscutibile ed è stato ovviamente il miglior portiere del campionato e quindi è lui. La sorpresa per me è col Pani perché l'anno scorso non mi sembrava un giocatore così tanto trascinatore tecnico della squadra, invece si è preso la squadra sulle spalle molto altalenante ma è chiaro se fosse continuo non sarebbe nel Monza, però è un giocatore che quando si accende veramente spacca la partita e l'ha fatto più volte, quindi il giocatore che ha dimostrato di avere un bel sinistro, di avere tante idee proprio nella tre quarti di assistenza di filtrante, bel giocatore e mi ha sorpreso. La delusione dall'altra parte è Ciurria, quello che invece l'anno scorso fu determinante lì sulla fascia era un... le fasce Carlos Augusto-Ciurria furono decisive l'anno scorso, Carlos Augusto è andato all'Inter, Ciurria è rimasto ma ha perso il posto, cioè ha giocato poco all'inizio male, poi ha perso il posto, ha cominciato a giocare Birindelli, ha perso completamente il posto e quando ha giocato ha fatto male, cioè Ciurria è stata veramente una grandissima delusione perché l'anno scorso fu uno degli elementi cruciali ecco dello scacchiere di Palladino, quindi per me la delusione è Ciurria. Napoli, ragazzi Napoli 2, ora comincia il pattume perché si arriva nelle squadre e pigliano votacci, la prima è il Napoli perché io non mi aspettavo la riconferma chiaramente perché quando una squadra fuori dai pronostici vince uno scudetto in quel tipo lì si scarica, i giocatori perdono le motivazioni è veramente difficile confermarsi su quei livelli ma è difficile anche confermarsi tra le prime quattro, secondo me l'obiettivo di Napoli doveva essere quello e il mercato non è stato all'altezza e lo avevo già specificato perché perdi il difensore più forte della serie A e lo sostituisci con uno da cabaret non va bene, cioè lì chiaramente dovevi intervenire avevi anche tanti soldi in mano però il vero errore del Napoli è stato quello di mandar via Garzia che magari non era simpatico ok? non faceva calcio spettacolare come quello che si era visto l'anno scorso aveva questa gestione magari un po' discutibile dei Kvarazkeli e degli Osimene però poi si va a vedere il comportamento avuto Osimene durante l'anno cioè nel senso quando ribadisco una squadra vince un campionato è difficile motivare i calciatori quindi lui magari nel metterli in competizione con i panchinari cercava di riaccenderli un po' perché il rendimento individuale dei calciatori era calato a picco rispetto all'anno scorso era prevedibile che l'anno scorso fosse l'annata miracolata però fin troppo era calato quindi lui stava cercando di tirar fuori il sangue dalle rape no? e non grosso modo ci stava riuscendo perché quando è stato esonerato era quarto in classifica era mi sembra il secondo attacco la quarta difesa una roba del genere l'errore è stato mandarlo via pensando che il Napoli dovesse rilottare per lo scudetto e che era colpa di Garzia se il Napoli non sta lottando per lo scudetto quello è stato un errore di valutazione devastante poi uno dice vabbè lo mando via perché sta sbagliando prendo un allenatore contro Cazzi che mi torna a far lottare per lo scudetto no prendi un ex allenatore che ha fatto retrocedere il Cagliari perché ha fatto un disastro ha buttato via la Champions dove col Barcellona aveva tutte le arti in regola per poter passare in Coppa Italia la sconfitta rovinosa col Frosinone è roba che rimarrà negli annali della storia del Napoli in negativo l'arrivo di Mazzarri poi ormai ha voluto prendere un ex allenatore un bollito ormai tienilo ma cosa cazzo lo mandi via a fare per prendere un altro che non è un allenatore cioè situazione gestita male anche a livello comunicativo disastro Napoli assolutamente da due che sta fuori dall'Europa il prossimo anno qualche imbecille secondo me ah bene perché ora arriva Conte e si torna all'ottata per la Champions il Napoli tanto poi lo farò il video su Conte quando sarà ufficiale però il Napoli non è così che deve arrivare ad alti livelli perché c'è stato per 15 anni ad alti livelli con un percorso differente e il Napoli non può fare una stagione senza Coppe Europee senza che questa venga definita un fallimento totale perché il Napoli deve essere abituato a giocare ogni tre giorni quindi per quanto mi riguarda è una stagione da due il top alla fine dirò che è Kvarazkelia perché è quello che comunque ha lottato di più ci ha messo più grinta ci ha messo più cuore ci ha messo anche più tecnica e anche più gol e quindi Kvarazkelia è il top ma è anche la sorpresa perché l'anno scorso il giugno di torno fece molto male fece un giugno di andata impressionante e poi il giugno di torno scoppiò e tanti dissero eh ora hanno cominciato a conoscerlo sanno come marcarlo ha dato una grande risposta in questo campionato perché le aspettative si erano abbassate proprio perché il giugno di torno l'anno scorso aveva lasciato qualche perplessità e quindi è tornato il Kvarazkelia dei primi sei mesi e quindi ha dimostrato che quei sei mesi gli ultimi sei sono stati forse un caso quindi mi ha sorpreso la delusione allora sono tanti calciatori chiaramente che sono calati di rendimento e Anghissalo Botka sono Rachmani sono tanti ma Di Lorenzo ha deluso sia dal punto di vista tecnico perché ha fatto un campionato usceno sia dal punto di vista umano perché sei capitano della squadra la prima stagione fa cagare io mi voglio levare a Diulo che schifo delusione a 360 gradi Roma allora anche la Roma come la Lazio ha fatto una grande mossa cioè quella di cacciare Murigno una Roma che ha fatto un giro andata terribile sia a livello di classifica di prestazioni anche ma anche a livello attitudinale cioè io non ho nulla contro la Roma la Roma quella di Strottman Rain Golan Manolas Collarov Dzeko io la adoravo cioè la platifavo proprio perché mi piaceva un sacco ma la Roma e Murigno non poteva stare simpatia cioè aveva proprio tutta una simulazione una cosa era una guerra continua o gli arbitri o il sistema era una cosa veramente insopportabile per poi vedere una squadra con giocatori pagati 7, 8, 10 milioni e un allenatore con canale a 7 che gioava a catenaccio e uno adesso mi potrebbe dire ma come hai dato 7 e mezzo alla Juve con Allegri e fallanti carcio ma Murigno non ti va bene no che non mi va bene perché Allegri non c'è la mia Di Bala Pellegrini Awarre Sharawi c'è la mia bella gente lì e quello che voglio dire cioè Murigno aveva un potenziale tecnico dal centrocampo in su elevato che non ha mai sfruttato quindi la grande qualità della società è stata mandare via Murigno capire che Murigno li stava dissanguando economicamente perché gli faceva fare dei mercati veramente allucinanti pessimi per prendere calciatori che sono l'esatto contrario di quello di cui ha bisogno una squadra indebitata e che ha problemi con l'UEFA sulle plus valenze cioè prendere i giocatori di 30 anni 31 anni con stipendi faraonici o in prestito come Lukaku quindi li stava dissanguando per non raggiungere per non avere poi il rendimento in campionato almeno da Champions quindi hanno avuto questa grande mossa di cacciare Murigno contro il volere della piazza cioè perché la piazza si è rivoltata giustamente la proprietà mi è fregato un cazzo perché il tifoso e parlo da tifoso della Fiorentina il tifoso non conta una sega il tifoso tanto se vince è contento se perde gli girauglioni non è che può che tu puoi scegliere l'allenatore il giocatore se sta simpatico al tifoso medio o alla curva ma chi se ne frega cioè tu devi fare delle valutazioni tecniche tecniche e tattiche il tifoso medio non ha capacità di valutazione tecnica e tattica il tifoso medio cito il buon Federico Frusciante che è un appassionato e intenditore di cinema della mia terra è Livornese che ha un canale youtube di cinema appunto che lui in un video fece questa definizione il fan a livello fan fanatico di qualcosa non capisce un cazzo in quanto tale perché è fan è la stessa cosa io ve la ridico sul tifoso il tifoso non capisce un cazzo in quanto tale perché è mosso dalle emozioni dalla fede calcistica dai desideri dai sogni non dalla dalla competenza quelli sono i dirigenti che devono valutare a livello di competenza le scelte da fare il tifoso non deve essere preso in considerazione quindi la Roma ha fatto una grande mossa che non tutti avrebbero fatto ha scelto la soluzione meno dolorosa a livello ambientale che poi si è rivelata essere anche una soluzione che ha portato dei benefici nel gruppo ha alzato il livello di qualche calciatore ha ridato entusiasmo e quindi è stata una scelta giusta però la stagione da Roma non è comunque da considerarsi positivissimo don't say perché comunque arriva in Europa League manca la Champions di poco ma era partita molto indietro in Coppa si è fermata contro il Bayer Leverkusen perché ho dato 9 e mezzo all'Atalanta perché batte il Bayer Leverkusen in impresa quest'anno quindi assolutamente è comprensibile fermarsi contro il Bayer Leverkusen però la cavalcata della Roma non è stata male in Europa e quindi per me la stagione è da 6 perché a Roma aveva il potenziale di fare di più la Roma era come Rosa una da prime 4 non c'è arrivata però si è tolta un fardello di dosso perché veramente Mourinho era un problema e non era facile levarselo di torno e quindi questo è una cosa da considerare il top è Dybala giocatore tecnicamente di un'altra categoria la sorpresa è Svilar non è una delusione a Rui Patricio perché Rui Patricio è sempre stato un bidone però non mi aspettavo che Svilar potesse avere questo rendimento ha avuto qualche amnesia ma ci sta tutti i portieri ce l'hanno però il rendimento a Svilar è sempre stato alto da quando è entrato da titolare insomma a difendere la porta della Roma la delusione è a Uar perché io da Uar mi aspettavo molto di più un giocatore che secondo me può fare molto di più chiaro i giocatori tecnici offensivi con Mourinho sono stati tutti messi a disagio però a Uar non ha fatto bene nemmeno con l'arrivo ai De Rossi quella è stata la grande delusione Pellegrini si è riacceso a Uar no e quindi per me a Uar è la delusione della Roma Salernitana ragazzi la Salernitana è 0 la Salernitana è 0 perché è la peggior squadra della storia della Serie A a girone unico con 3 punti a vittoria perché ha chiuso con 15-16 punti 17 forse con il pareggio con il Milan un attimo già che ci sono vi do il numero corretto 17 punti 17 punti è il peggior risultato di sempre e quindi già questo ti ti cataloga come una stagione iper fallimentare la Salernitana non aveva una rosa per retrocedere è vero che ha fatto un mercato terrificante e aveva dato infatti un voto molto basso perché se tu decidi di tenere Sosa addirittura contro voglia perché Sosa sembrava volesse andare via poi gli devi prendere i giolatori per far su calcio invece ha preso tutt'altro e però poi è stato tutto un disastro ha cambiato 26 allenatori ha fatto ha richiamato Sabatini per fare un'altra rivoluzione sul mercato che non è servita a niente il casino anche legale con D.A. che a questo punto era meglio se lo vendevi in estate la guerra contro gli arbitri c'è tutto sbagliato una stagione da cancellare completamente e quando dico per dire Lazio ha fatto bene ha messo le basi per il futuro il Genoa ha messo le basi per il futuro la Salernitana no eh la Salernitana no la Salernitana così non mette le basi per tornare in Serie A deve cambiare tanto anche a livello proprio di gestione proprio quindi una Salernitana terrificante che non può che prendere zero praticamente al fantacarcio si metteva sempre l'attaccante contro la Salernitana perché almeno due gol li faceva sempre cioè una cosa veramente allucinante il top della Salernitana per me è maggiore che quando è stato in condizioni di giocare ha sempre fatto partite ampiamente sufficienti l'unico diciamo che non scendeva con frequenza sotto il 6 la sorpresa è Ciauna che che ha tecnica ragazzi infatti sembrerebbe vada alla Lazio per 8 milioni ora al di fuori degli inciuci di Salernitana Lazio però Ciauna ha dimostrato di essere un giocatore che ha un grande potenziale chiaramente inespresso nella Salernitana però ha un grande potenziale ha fatto vedere grandi cose e arrivava da un altro pianeta calcistico quindi nessuno lo conosceva ha avuto veramente un grande impatto e poi la delusione è di A non tanto tecnica perché non ha praticamente mai giocato quanto umana perché un giocatore che ha questo tipo di atteggiamento dimostra di non essere un professionista e quindi io qualsiasi squadra sono il Cagliari il Como non lo prenderei nemmeno gratis perché uno così ti rovina anche a livello mentale proprio psicologico lo spogliato io ha fatto una grande stagione l'anno scorso sì ma grande delusione è stata anche Cullibali che l'anno scorso per me fu il migliore della stagione lo misi come top della stagione ha avuto un tracollo anche Cullibali incredibile però D.A. fu il trascinatore a livello realizzativo e quest'anno non ha nemmeno giocato quindi veramente terribile Sassuolo ecco un altro voto da horror gli diamo due perché il Sassuolo non c'entrava niente con la retrocessione cioè quando uno fa la griglia di partenza del campionato non metteva il Sassuolo nelle ultime tre ma nemmeno nelle ultime sei cioè il Sassuolo aveva una rosa abbondantemente da salvezza tranquilla da metà classifica una rosa del valore del Genoa del Torino cioè per me il Sassuolo è di quel livello lì eppure non è arrivata insieme al Genoa e al Torino ma ha fatto 20 punti meno cioè roba veramente incredibile un allenatore che ha fallito clamorosamente Dionisi di cui si parlava tanto bene ha fatto male l'anno scorso dove nelle partite in cui non c'è stato Berardi e il Sassuolo praticamente l'ha perse tutte quest'anno l'infortunio di Berardi a Verona al tendine Achille dove è che si è fatto male sul rinvio sbagliato di Montipò ha condannato il Sassuolo ma non va bene cioè è chiaro che quando hai un calciatore così forte ti ci appoggi ma non è che se non c'è Berardi non c'hai altro perché c'hai Torsmet c'hai Mateus Enrique c'hai Boloca c'hai Lorient c'hai Pinamonti c'hai Deyfrel c'hai Mulattieri c'hai Racic cioè ragazzi la squadra c'hai Doig c'hai Tolian la squadra è buona Pedersen la squadra è buona ma non puoi mai fare queste partite di merda e retrocedere così a picco e poi è stato veramente tanto deludente Ballardini perché Ballardini quando è arrivato al Sassuolo mi aspettavo uno che cambiasse modulo e passasse al 3-5-2 e desse solidità al Sassuolo invece ha insistito con lo stesso modulo e lo stesso sistema di gioco di Dionisi e ovviamente non ha avuto effetto è passato al 3-5-2 dopo quando la squadra ormai non aveva nemmeno il tempo materiale per adattarsi al nuovo sistema ed è rotolata clamorosamente verso la retrocessione con quelle due partite allucinanti di Firenze e quella in casa contro il Lecce con 8 gol subiti in due partite da due squadre che in attacco non sono nemmeno forti e lì si è condannata completamente un Sassuolo pessimo che non merita che due e che secondo me delle tre cioè come la Salernitana farà fatica a riprendere il ritmo nonostante abbia una squadra forte farà fatica a riprendere il ritmo per tornare in Serie A perché scendere così e proprio con un fallimento così così grossolano non è semplice riprendersi due il top è Berardi perché finché c'è stato è stato il trascinatore come è sparito Berardi è sparito il Sassuolo quindi si capisce che il top è Berardi la delusione del scusate la sorpresa è Torch che l'anno scorso insomma non si era ambientato bene non aveva fatto bene quest'anno ha fatto molto bene e si è ambientato molto molto meglio ha avuto dei numeri più alti prestazioni più convincenti anche dal punto di vista tattico cresciuto tanto l'annata dell'anno scorso fu veramente deludente quindi e quindi lo mettiamo nelle sorprese mentre la delusione al contrario è Matteo Scherriche che l'anno scorso fu uno dei migliori giocatore che era cresciuto tanto anche come personalità e quest'anno è scomparso completamente il Sassuolo ha queste cose come è stato Maxime Lopez l'anno scorso cioè il Sassuolo ha uno dei migliori dell'annata che l'annata dopo scompare cioè non ce l'ha come vizio questa cosa e quest'anno è toccata a Matteo Scherriche e penultima squadra è il Torino Torino che ancora insomma ferita aperta della delusione della sconfitta della Fiorentina in finale di conference che gli ha precluso l'Europa però con tutto il rispetto pretendere di andare l'Europa arrivando noni è anche eccessivo un Torino che però quest'anno secondo me ha fatto meglio della passata stagione e anche perché bisogna considerare che ha fatto a meno del suo giocatore più forte che è Scurz Scurz si è rotto alla settima giornata se non era la settima giornata contro l'Inter e ha saltato tutta la stagione ed è il giocatore più forte della Rosa ed è il giocatore su cui si basa tutto l'assetto difensivo e Juric è riuscito comunque a dare grande solidità alla squadra nonostante in difesa giocassero dei centrocampisti perché poi buongiorno c'è stato e c'è non stato perché a volte ha avuto degli infortuni anche lui poi ha giocato con Voivoda con Tames con Masina ha riadattato calciatori Rodriguez ha fatto un grande campionato però è un Torino che si è dovuto ricostruire ma che è riuscito a trovare una solidità difensiva avere un rendimento in casa da Fortino perché ha perso solo due partite in casa e quindi assolutamente il Torino si è costruito quel qualcosa che non è bastato arrivare in Europa perché ha mancato degli appuntamenti fondamentali soprattutto penso alla partita di Empoli e penso alla partita in casa con la Salernitana dove il Torino ha perso 5 punti lì che gli sarebbero valsi l'Europa e quindi è mancato nei momenti decisivi altrimenti avrei dato un voto molto più alto cioè se il Torino fosse andato in Europa cioè fosse arrivato nelle prime 8 gli avrei dato un 7 e mezzo abbondante perché con tutte le difficoltà che ha avuto a livello di infortuni di problematiche si sta parlando di una stagione secondo me convincente dove il Torino ha trovato delle soluzioni delle convinzioni delle consapevolezze che secondo me non aveva inizio anno poi che ci sia da costruire da migliorare la rosa quella è indubbio però la stagione secondo me è stata di valore il top è stato Buongiorno che si è preso il comando della difesa dopo l'infortunio di Scurse si è guadagnato giustamente la nazionale e quindi è il top del Toro la sorpresa è Bellanova perché Bellanova aveva fatto bene al Cagliari l'anno della recessione con Mazzarri era una di poche note positive Pallintes si è un po' perso ovviamente però al Toro ha avuto un rendimento offensivo veramente di alto livello giocatore che arriva sul fondo con una facilità incredibile che mette dei bei cross è stato un fattore anche per Zapata è stato un fattore quindi Bellanova bene bella sorpresa ed è la sorpresa del Toro la delusione è tra Sanabria e Vlasic perché Sanabria l'anno scorso sembrava fosse esploso definitivamente anche dal punto di vista realizzativo dove aveva sempre avuto dei problemi in carriera giocatore molto intelligente molto utile per la squadra ma con delle lacune in fase di finalizzazione sembrava essere esploso lo scorso quest'anno si è un po' perso ma la vera delusione è Vlasic e il pupillo di 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 Juric che ha spinto per farlo confermare Toro ha pagato tanti soldi e quest'anno non ha inciso non ha inciso ha fatto mi sembra tre gol in tutto il campionato e poi è determinante nell'economia del gioco perché lì tra le linee è l'unico della rosa che ci si sa muovere e sa gestire i tempi quando si è fatto male e ci ha giocato Ricci Ricci non ha i tempi del trequartista e le movenze senza palla del trequartista si è persa quella fluidità però il giocatore pagato quella cifra al Toro deve essere determinante deve fare 8-9-10 gol 7-8 assist un giocatore pagato 15 milioni dal Toro deve fare quel tipo di campionato un campionato come quello ha fatto Vlasic è da un giocatore pagato 3,5 bene ultima squadra è l'Udinese che un tifoso l'Udinese mi ha scritto nei commenti del video dell'ultima partita tra Frosinone e Udinese dicendomi che Pozzo si è vergognato della stagione che ha fatto l'Udinese e tutti i torfi un'erri posso dare perché l'Udinese quest'anno veramente ha rischiato ma veramente tanto sicuramente ha avuto dei problemi di infortuni perché è saltato Bijol per 4 mesi il miglior difensore della Rosa tutta la parte finale della stagione l'ha fatta senza Toven e Lovric che erano stati più determinanti nella costruzione del gioco Deulofeu che si sperava potesse recuperare in qualche modo probabilmente ha finito di giocare e comunque è stata un'assenza pesante quindi ci sono stati degli infortuni seri però l'Udinese veramente ragazzi ha vinto una partita in casa in tutto il campionato una cioè ma non è accettabile una cosa del genere ne ha vinte 6 in tutto il campionato perché ne ha vinte 2 alla fine perché erano 4 fino a 3 giornate fa cioè un Udinese che ha avuto un rendimento non all'altezza che ha espresso un calcio non all'altezza un calcio non qualitativo nonostante il centrocampo e l'Udinese ad esempio secondo me sia un centrocampo di qualità un buon centrocampo non è riuscito a trovare a trovare una sua identità funzionale anche l'Udinese ha cambiato tre allenatori perché è partito con Sottilla ed è stato un errore perché Sottilla aveva dimostrato in giro di torno l'anno scorso di aver perso di mano la situazione come Dionisi cioè non andava confermato l'hai confermato l'hai mandato via hai preso Cioffi Cioffi ha dato una scossa caratteriale alla squadra ha vinto a Milano poi però si è perso di nuovo anche lui e soprattutto l'Udinese con Cioffi prendeva sistematicamente gol al novantesimo tutte le partite ha perso una quantità di punti al novantesimo che dimostra che la squadra ha paura e non va bene per un allenatore ovviamente avere una squadra che prende gol al novantesimo tutte le partite vuol dire che l'allenatore non l'ha gestita bene quindi assolutamente Cioffi ha meritato l'esonere è arrivato Cannavaro ha dato quello sblocco mentale necessario per salvarsi l'Udinese si è salvato si è salvato a fatica con tanta fatica però tutto sommato secondo me ha meritato la salvezza poi con il cambio con l'arrivo di Cannavaro ma una stagione veramente brutta brutta dove anche gli innesti di mercato Lucca che so che è molto contestato e molto criticato la tifosia dell'Udinese ho visto sulle pagine proprio dei tifosi udinesi è molto contestato non capisco perché sinceramente perché io ad esempio ho visto dal vivo Genoa Udinese e sono andato a Marassi a vedere Genoa Udinese mi ha fatto pena Lucca mi ha fatto pena perché è stato servito soltanto con palle dalla difesa con due uomini addosso a cercare di difendere i palloni non a fa sponda perché non c'ha nessuno intorno a difendere palle e a distribuirla ragazzi ma quello è un lavoro da matti cioè a me Lucca fa pena in questa squadra perché in una squadra che non ha la benché minima idea di come giocare per il centroavanti comunque i suoi gol li ha fatti se neanche mangiati sicuramente però ha fatto i suoi gol è riuscito ad avere comunque un'utilità è stato determinante nella partita che ha consegnato la salvezza all'udinese con la sponda per Davis cioè alla fine Lucca secondo me il suo campionato l'ha fatto non lo metto come sorpresa perché ce n'è uno che veramente ha spaccato tutto però sinceramente le critiche a Lucca non le capisco e il suo campionato l'ha fatto quindi e vi dirò perché ormai dopo un'ora e quindici di video posso buttarla di fuori anch'io giustamente la nazionale di Spalletti gioca su Scamacca e la riserva ideale di Scamacca è Lucca perché per caratteristiche è quello che più ci si avvicina non è Rete Gui non è Raspadori non sono questi giocatori qua la riserva ideale di Scamacca è Lucca chiusa parentesi detto questo il top il top dell'udinese è assolutamente Wallace per me che è stato uno dei migliori nelle statistiche di recupero pala di contrasti vinti giocatore determinante a livello tattico nella squadra anche perché nel giorno andata l'Ovric è stato inguardabile nel giorno di torno è stato inguardabile Samarzic non che nel giorno andata Samarzic abbia fatto grandi cose e quindi Wallace era determinante per fare stantuffo davanti alla difesa soprattutto quando è mancato Bijol e l'udinese con Cabasele e Cristens insomma aveva fatto fatica a trovare solidità quindi Wallace è stato determinante ed è stato secondo me il migliore della stagione l'udinese e la sorpresa è Okoye ragazzi cioè Silvestri che a me non è mai piaciuto tantissimo ma è come portiere anche dai tempi del Verona però aveva fatto bene con l'udinese aveva iniziato la stagione con una papera dietro l'altra giustamente è stato panchinato però ti si è presentato questo qui e ha detto ma questo chi cazzo è cioè ora non è per fare i meme sull'udinese però dice vai ora anche in porta mettano gli africani cioè ha detto ma come può questo da dove viene chi è cosa fa 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 grandi parate Okoye è stato determinante ha preso qualche gol idiota penso a quello a Bologna sulla punizione di Selmekers però è stato determinante anche nell'ultima partita a Frosino aveva fatto una parata su Okoye che è da far vedere nelle scuole calcio Okoye è un portiere da cui ripartire assolutamente è stata una sorpresa incredibile perché ha panchinato un portiere di grande esperienza meritatamente perché lui stava facendo male Okoye quando è entrato in campo ha dato grandi garanzie cioè ha messo due o tre partite poi in apprendere la dimestichezza col campo ma poi non c'è stato più verso che perdesse il posto la delusione è Samardic perché è rimasto quasi per caso doveva andare alla Juve all'Inter stava per firmare all'Inter per tanti soldi ha fatto un campionato veramente di basso livello ed è un giocatore secondo me tra i più sopravvalutati della Serie A in assoluto perché ha dei colpi da campione perché ha delle giocate tecniche basti pensare al gol a Napoli che sono da giocatore fuori scala il problema è che te le tira fuori una volta al mese e nel mese in tutte le altre partite fa veramente schifo cioè proprio cammina non ha ritmo non ha non ha intensità non ha spirito di squadra non ha spirito di sacrificio non zero proprio ha un bel piede sinistro batte bene i piazzati sì ma non basta per giocare in Serie A non basta assolutamente quindi è stata una grande delusione perché ti aspettavi ha cambiato anche tre allenatori l'Udinese che almeno uno dei tre riuscisse ad accenderlo e a farlo entrare nel mood giusto non c'è stato verso quindi la delusione è Samarsic 1 ora e 17 di video e il mio video si conclude qua e questo pagellone di fine campionato è un video devastante scrivete nei commenti cosa ne pensate insomma di questa stagione di queste pagelle di questi voti se siete d'accordo ma soprattutto se non siete d'accordo scrivete nei commenti e dite la vostra sulla vostra squadra o sulle altre e condividete il video con le persone che pensate possano apprezzare questi contenuti ma soprattutto iscrivetevi al canale se non lo siete per supportarmi perché questi sono video che io non preparo cioè io qua sulla scrivania ho il cellulare dove ho visto la classifica il fazzoletto verso fiammi il naso e poi ho il microfono e basta il ventilatore il ventilatore perché quando comincerà a far caldo servirà anche questo però non ho fogli non ho tabelle non ho niente perché appunto è improvviso parlare un'ora e 18 di calcio su 20 squadre diverse non è nemmeno semplice quindi ci sta che possiate non essere d'accordo che posso aver anche tirato qualche sfondone andando anche a memoria sulle partite sui momenti della stagione però faccio del mio meglio per dare dei contenuti non dico di qualità però informativi analitici quello sicuramente sì quindi scrivete numerosi nei commenti noi ci vediamo ai prossimi video che saranno dedicati questo io l'ho registrato giovedì pomeriggio forse però non riuscirò a pubblicarlo prima del playoff tra Venezia e Cremonese ma vi porterò al post partita di Venezia e Cremonese magari ve lo porto venerdì e poi ci vediamo insomma per il ritorno della finale playoff tra Venezia e Cremonese sapute quali sono le 20 squadre di Serie A si comincia con il pagellone squadra per squadra perché questo è il pagellone generale però farò un pagellone squadra per squadra con le pagella ai singoli calciatori dove chiaramente ci sarà molta più contestazione perché non essendo tifoso al di fuori della Fiorentina le altre partite non è che l'ho viste tutte 38 magari l'ho viste 33 28 26 e quindi posso anche sbarellare un po' e si può non essere d'accordo però mi porterò comunque il pagellone e i fantamercati quindi il mercato che io farei se fossi direttore sportivo delle 20 squadre che parteciperanno alla Serie A 2024 2025 vi saluto chi è arrivato fin qua è un eroe un caro saluto a tutti ciao